calda esortazione al cuore del peccatore ed eccoti pertanto peccatore che tutti aspettano la tua risoluzione l'aspettiamo con impazienza di desiderio noi tutti a cui la salute dell'anima tua è così a cuore come la nostra dio sa con quanto affetto prostrati in spirito davanti al trono delle sue misericordie abbiamo domandata la tua conversione e non cessiamo tuttora dalle istanze più fervide per ottenerla l'aspetto il cielo che io veggo aperto sopra il tuo capo e gesù sedente alla destra di dio che tenendo fra le mani una corona ti invita a guadagnartela con la vittoria di quella tua passione veggo i santi tutti che ti fanno cuore a salire ovessi già sono non temer dicono non diffidare a noi pur sembrava un di troppo difficile quella salita ma la grazia in cui mettemmo tutta la nostra fiducia ce l'ha resa tutta facile tutta dolce portando anzi e la stessa sulle sue braccia amorose la nostra fiacchezza molti di noi viventi in terra abbiamo peccato come te e più forte di te ma perché abbiamo fortunatamente ancora in tempo rinunciato ai vani piaceri del mondo confidati nelle misericordie di dio ecco che siamo ora qui a lodarle in eterno veggo che gli angeli già si preparano per mettere tutto il paradiso a festa per la conversione vicina che sperano del tuo cuore che più l'inferno pure aspetta con fremito di indignazione e di timore le tue risoluzioni e già parmi vederlo per questo spalancato sotto ai tuoi piedi questo è il momento che decide forse di averti per sempre perduto temono troppo i tuoi tentatori nemici che la vista del cielo e di tanti beni eterni e incomparabili che qui ti si promettono non ti facciano risolvere finalmente a calpestare questi terreni beni vanissimi che hanno lusingato sinora il tuo cuore che pensi adunque che agiti che deliberi che risolvi sei ancora incerto ancora dubbioso ma se tu vuoi seguire a vivere come vivi non occorre che altro risolva l'inferno è per te e già veggo che i demoni si sforzano di stringere vie più le tue catene mentre tu tardi a risolvere di scappar loro di mano se dunque se tu risolvi in questo punto stesso risolvi non conosci la grazia di dio tardi preparamenti hai tu dunque risoluto di calpestare le tue sregolate passioni sì io non ne dubito più sarebbe troppo storta cosa che non l'avessi fatto prima impossibile del tutto che non lo faccia in questo punto alza dunque franchi i tuoi sguardi al cielo sì il cielo è tuo ti riconoscono già da quest'ora i santi del cielo come loro concittadino ha già preparato gesù il luogo che tu devi riempire la gloria con che ti vuole compensare già dispone le grazie per aiutarti fino al beato conseguimento ah mio dio mio gesù se così è seppure fermo come io più non diffido il proposito di quest'anima che a voi si arrende se le parole di un misero peccatore quali io mi sono aiutate dalla vostra grazia intercedendo tante preghiere delle anime pie hanno aggiunto un'anima anche solo al drappello di quelle anime lette che quali prigionieri felici nelle conquiste della vostra grazia formano la pompa più solenne della gloriosa vostra ascensione del cielo io non domando a voi per me altre consolazioni altri conforti negli angusti della mia vita e del mio spirito questa sola mi basta aggiunta alla speranza con che confido che condonati a me pur benignamente gli innumerevoli miei peccati sarò insieme con tutti i devoti miei fratelli dopo questi brevi giorni a godere la vostra gloria per tutti i secoli